prego allora stasera abbiamo la birra in copertina quindi così male non può andare parliamo di recommendation system costruiamo un semplice engine per le raccomandazioni in grado di consigliarci delle birre che sono piaciute ad altri che hanno i nostri stessi gusti questo qua è un po il succo di quello che andremo a fare oggi in copertina abbiamo pure neo4j se fossimo live chiederei di alzare le mani in quanti sanno cos'è o quanti l'hanno provato facciamo finta che il 10 per cento sa cos'è e l'ha provato dai poi c'è anche l'aravel che è bello l'aravel so che a tanti però non garba molto magari alcuni di questi sono pure qua stasera almeno uno di queste qua stasera forse due in realtà è proprio per questo che ho scelto di portare l'arve stasera al bug mi presento sono davide fantuzzi lavoro in larus come data engineer prima di questa esperienza nel mondo di big data ho lavorato per molti anni come sviluppatore php e questa qua che vedete a destra non è nemmeno la mia forma finale che bensì è questa ovunque e su internet esistono solo così quindi se vedete questa immagine probabilmente sono io ma basta parlare di me 30 secondi sono già troppi la mia azienda è l'arus è stata fondata nel 2004 a base a venezia e siamo un team di data architect data engineer data scientist e tutte le posizioni data che potete immaginare le abbiamo che fra l'altro stiamo assumendo quindi www larus-ba.it se vi interessa questo tipo di lavoro e la faccia tosta con cui oggi vi parlo di neo4j deriva dal fatto che l'arus è premier partner di neo4j dal 2020 e collabora con neo4j dal 2014 siamo partner numero uno in europa e tra i primi tre al mondo come già detto prima ci occupiamo di tutto ciò che riguarda i dati dal persistent layer alla visualizzazione passando per l'elaborazione e l'analisi dei dati ma siamo anche parte della di rios che è la rete italiana open source è composta di aziende leader in vari settori velocissimi di cosa parliamo oggi introduzione mega pippone sui recommendation system parliamo di neo4j perché immagino che non tutti lo mastichino vediamo come si usa con php diciamo che il succo di tutto questo lo facciamo perché per introdurre il client php di neo4j ecco e quindi in questa terza fase andremo a vedere come si usa il driver php di neo4j e poi mettiamo tutto insieme e cerchiamo di arrivare una conclusione e ad avere qualche buona birra da bere prima una recommendation system allora le raccomandazioni le vediamo ogni giorno ormai ovunque sui shop online sui social network su spotify e surrogati simili ci vengono consigliate persone che potremmo conoscere luoghi o locali che ci possono piacere oggetti che vorremmo acquistare ma non solo questi questi sistemi vengono anche usati in altri ambiti che magari sono un po fuori da quello che vediamo tutti i giorni ad esempio nella finanza per trovare transazioni fraudolente la così detta fraud detection le forze dell'ordine per trovare potenziali sospetti di crimini o per trovare anche dei candidati a dei test clinici le sfide principali di questi sistemi sono tre trovare quali elementi raccomandare tra questi elementi selezionare i più rilevanti ed eseguire i due punti precedenti il più velocemente possibile ma essenzialmente questi sistemi qua cosa fanno assistono gli utenti nel prendere decisioni quindi non fanno cose ma ci danno suggerimenti e siamo noi poi a prendere azioni a riguardo ci assistono tenendo conto anche del business ossia di quella che è la strategia di qualunque sia il dominio in cui stiamo operando e in tutto questo devono comunque considerare eventuali preferenze personalizzazioni o contestualizzazioni da parte dell'utente un esempio è l'impostazione dei contenuti espliciti di youtube ad esempio ovviamente i video che vengono proposti a una persona che ha questo filtro disabilitato non possono essere gli stessi che vengono proposti a una persona che ha il filtro abilitato nonostante magari queste due persone abbiano se gli utenti abbiano lo stesso profilo di cose che guardano quindi gli utenti non vengono trattati come entità intercambiabili ma cercano di essere il più personalizzabili personalizzanti possibile perché comunque il fine ultimo di questi sistemi di aumentare il business o il retention rate o altre parole fancy di questo tipo ovviamente le raccomandazioni devono essere sensitive ad esempio facciamo una playlist su spotify aggiungiamo tre o quattro canzoni e lui in automatico sotto comincia a proporci alcune canzoni che potrebbero entrare in quella playlist basato su quello che già abbiamo all'interno della nostra playlist immaginate che noi aggiungiamo le canzoni e poi ci propone le canzoni basate su quelle quattro lì tre giorni dopo fa un po fa un po' strano perché mi stai proponendo sta roba qua che l'ho aggiunta quattro giorni fa e inoltre devono essere personalizzabili come abbiamo già visto ovviamente devono essere performanti e una cosa secondo me a mio secondo me mio parere giusto per rafforzare un po il concetto il sistema deve sapere il perché sta raccomandando quell'entità a quell'utente quindi deve essere explainable non deve esserci una black 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 box che fa i suoi calcoli e mi dà i risultati alla fine questa è una cosa molto importante perché poi ti dà vari vantaggi tipo l'utente l'utente sa perché gli viene raccomandato un elemento non so adesso non mi ricordo se amazon fa ti raccomandiamo questo perché hai visto questo 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 è un esempio di explainable explainability l'utente può anche dare un feedback sul fatto che la raccomandazione sia valida o meno il business può analizzare questi feedback e regolare il sistema di conseguenza e anche il business può eventualmente ricostruire la storia di ogni singola raccomandazione ormai mostrare gli articoli più venduti non è più una strategia che funziona piuttosto funziona il come abbiamo detto ti potrebbe interessare anche potresti conoscere anche eccetera eccetera che ormai è un ottimo modo per offrire suggerimenti real time su misura degli utenti l'architettura sottostante deve quindi supportare queste feature deve analizzare le relazioni tra l'utente e le altre entità nel dominio e come queste interagiscono tra loro e deve farlo nel più velocemente possibile altrimenti rischiamo che l'utente se il sistema non è abbastanza veloce a consigliargli cose che gli potrebbero piacere magari va su un altro sito quindi controlliamo a che cosa l'utente compra quali sono le caratteristiche di questi oggetti che ha acquistato se ci sono altre entità in gioco che e poi colleghiamo tutte queste entità analizziamo queste connessioni diamo il miglior suggerimento possibile ed è qui che entra in gioco neo4j cos'è neo4j? neo4j è un database non sequel a grafo e come tanti altri database non sequel anche neo4j è schemaless ossia non c'è uno schema fisso predefinito per i dati che andiamo ad inserire tuttavia il concetto di schema esiste in neo4j ma semplicemente indica la situazione attuale di quelli che sono i nodi delle relazioni nell'immagine che c'è qui a destra si vede la rappresentazione dello schema del dataset che poi più tardi useremo e quindi questo qua è lo schema del database attuale ma non è fisso possiamo aggiungere tutti i pallini che vogliamo e il database non si arrabbia in quanto database a grafo come come abbiamo detto le sue entità principali sono i nodi e le relazioni quindi i nodi sono i pallini e le relazioni sono le linee e le freccine sia i nodi che le relazioni possono contenere proprietà di vari tipi sia tipi nativi che liste date punti vari tipi di di dato i nodi sono identificati da quelle che si chiamano label un nodo può avere una o più label le relazioni invece sono identificate da un da un nome o tipo e da una direzione che è una ed è obbligatoria qui ad esempio vedete che il nodo con la label user è connesso con il nodo review tramite una relazione root comunque man mano che andiamo avanti poi vi spiego un po meglio queste cose qua spero new4g supporta anche le transazioni quindi è transactional ed è asset compliant esiste sia una versione open source che una versione con licenza enterprise comunicazione tra client e server avviene attraverso il protocollo bolt che è un protocollo creato ad hoc per new4j le query di lettura e scrittura avvengono usando il linguaggio cypher di cui faremo largo uso poi più tardi adesso notate qualche somiglianza tra la visualizzazione del db che abbiamo qui e lo schemino che abbiamo usato prima diciamo che sono abbastanza simili poi non è che ho barato cioè quella visualizzazione dello schema è effettivamente quello che ci restituisce new4j quando facciamo quella col db schema visualization il grafo è sempre la prima cosa che disegnate anche quando progettate un database relazionale vorate pensarci perché la realtà di fatti qual è è che la realtà la vita vera è fatta di cose connesse tra di loro e citando il fondatore CEO di new4j graphs are everywhere grafi sono ovunque secondo me è molto più difficile trovare qualcosa che non possa essere rappresentato con un grafo piuttosto che il contrario troviamo i grafi ovunque nei trasporti binari che connettono stazioni strade che connettono città i percorsi degli autobus con le fermate e parlando poi di infrastrutture senza pensare solo ai trasporti possiamo anche parlare delle infrastrutture informatiche quindi cavi che connettono i computer i server dispositivi e già la rappresentazione grafica che facciamo di questo tipo di infrastrutture è già di per sé un grafo possiamo anche andare più sull'astratto tipo un albero genealogico è un grafo la nostra rete di conoscenze un grafo tutte le entità che possono essere messe in relazione tra di loro diventano un grafo e su questo grafo possiamo sfruttare la teoria di grafi per fare analisi trovare comunità in un gruppo di persone trovare punti critici in un infrastruttura e neo4j ci permette di fare tutto questo qua ma adesso basta fare proselytica altrimenti andiamo un po troppo lunghi dicevamo neo4j utilizza cypher come linguaggio di query come si fa una query su nodi relazioni cypher ha una sintassi logica e visuale per riuscire a ottenere quello che vogliamo da neo4j usa esci art per identificare i nodi e le relazioni e le direzioni delle relazioni vediamo tre esempi veloci con questa prima query troviamo tutti i nodi che hanno come label beer e li ritorniamo molto semplice la parte fra parentesi tonde è divisa da due punti la parte a sinistra dei due punti è il nome con cui andremo a referenziare quel nodo successivamente all'interno della query una variabile tra molte virgolette tanto il mio seo non dovrebbe esserci quindi non mi licenze domani però è giusto per capire beer è la variabile in cui vengono viene assegnato il nodo beer e la parte a destra dei due punti è la label con cui indicare quel nodo lì la seconda semplicemente crea un nuovo nodo con label beer e lo ritorna e setta la proprietà idea 1 la terza cerca i nodi birra che sono connessi con i nodi birrificio da una relazione di tipo brewed by cioè da quale birrificio quella birra è stata prodotta qui notiamo bene la questione delle asci art le parentesi tonde indicano i nodi che abbiamo visto essere dei pallini abbiamo le freccine che indicano la direzione della relazione e nel mezzo nella freccia c'è il nome o tipo della relazione secondo me è abbastanza logico bisogna un attimino entrare nella nell'ordine di idee ma ci si fa l'abitudine ed è molto lineare secondo me ora dopo 24 slide forse iniziamo a vedere un po di php scusate ma mi dovete sentire deglutire l'acqua per il resto del talk mi dispiace esiste questo bel client php open source che si può trovare su github e su composer tra l'altro sono contributor pure io quindi se si spacca sapete di chi è la colpa comunque attualmente è alla versione 211 al momento supportato dalla community di neo4j quindi è un community driver ma non è ancora un driver ufficiale anche se si sta lavorando comunque in quella direzione lì è una cosa interessante è stato implementato test kit che è un kit sviluppato da neo4j essenzialmente questo kit esegue la stessa test suite di integrazione su tutti i driver e i client di neo4j su tutti i linguaggi quindi tutti i client di tutti i linguaggi di neo4j tutti i client di neo4j tutti i linguaggi sono coperti dagli dagli stessi test oltre a quelli che scrivi nel tuo linguaggio con cui scrivi il driver c'è anche questo test kit che esegue tutti sti test su ogni driver questo fa sì che tutti i driver e i client abbiano lo stesso funzionamento lo stesso comportamento è ovviamente è framework agnostico anche se gli ogm o object graph mapping per symphony e laravel credo sono in backlog quindi arriveranno presto e parlando di ogm ovviamente capirete bene che questo fa di noi l'unica community che è a favore degli ogm e non insultatemi perché tanto so che ci avete pensato in tanti questa cosa qua e avanti come ci connettiamo con 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 neo4j attraverso il client c'è un semplice client builder andiamo a settare il driver che vogliamo usare possiamo usare bolt possiamo usare https possiamo usare auto routing tutti quelli tutte le modalità di connessione che ci sono in neo4j si possono usare e poi si chiama build e semplicemente ti ritorna il client niente di stratosfero fino qua il primo parametro del del metodo with driver è la alias di quella connessione lì perché perché in realtà noi possiamo specificare più di una connessione all'interno del client per qualsiasi motivo magari non sta funzionando bolt e vogliamo connetterci con una https perché mille motivi possiamo specificare vogliamo bere due database diversi su cui scriviamo nonostante neo4j abbia la replication e tutto quanto però vogliamo fare un accrocchio dove scriviamo da una parte all'altra si può fare poi in fase di query andiamo a vedere come specificare la connessione su cui lanciare i comandi ecco e come eseguiamo le query abbiamo tre modi ci sono le query auto committed ci sono le transaction function e le non managed transactions vediamo soltanto le prime due perché la terza è comunque un caso un po difficile da trovare diciamo hai il 100% di controllo sulle transazioni ma sono comunque molto complicate e vanno un po fuori dallo scopo di oggi quindi vediamo auto committed queries qui vediamo un esempio di di query con auto commit si aspetta uno o due parametri il primo è la stringa con la query il secondo è opzionale della lista di parametri che poi andremo a sostituire all'interno della query mi fermo un attimo per spiegare cosa fa la keyword merge essenzialmente aggiorna un record un pattern identificato dai parametri tra le parentesi graffe quindi essenzialmente esegue una ricerca sugli utenti che hanno come email quella e se non esiste se non lo trova lo crea con gli stessi parametri quindi in questo caso cosa succede andiamo a cercare un nodo di tipo utente con la mia email se il record non esiste viene creato e viene messo a disposizione per eseguire l'assetto che c'è successivamente se invece il record esiste già viene preso e poi viene ripassato l'assetto che va che va a settare la proprietà che gli serve possiamo anche come dicevo prima specificare su quale connessione del client eseguire la query qui in questo caso andiamo a usare non quella di default che era bolt ma quella che si chiama backup il metodo run ci ritorna anche dei risultati nel caso la query abbia una return statement poi vediamo meglio come lavorare con questi risultati però è per dire che non scrive e basta legge pure se non vogliamo passare delle stringhe in giro per il nostro codice possiamo usare anche degli oggetti di tipo statement che essenzialmente prendono gli stessi due parametri che prendeva la run quindi la query e i parametri da sostituire all'interno della query possiamo anche far eseguire più statement in una stessa transazione usando run statements e passandogli un array occhio che si c'è da passare un array di statement come apriamo una transazione? semplicemente con begin transaction dove apre la transazione oppure possiamo anche usare begin transaction e passare un array di statement da eseguire l'unica cosa da notare è che begin transaction non ci ritorna i risultati di quegli statement quindi tendenzialmente devono essere di sola scrittura ad esempio vogliamo settare un semaforo da qualche parte, un flag su una cosa ovviamente sono opzionali, possiamo anche non mandarli però se li vogliamo mandare all'inizio della transazione possiamo farlo in quel modo lì essenzialmente begin transaction ci ritorna l'oggetto della transazione che poi usiamo dopo e abbiamo gli stessi tre metodi che abbiamo visto direttamente su client quindi abbiamo run e passiamo la string run statement passiamo gli oggetti, l'oggetto statement run statement passiamo più oggetti passiamo un array di oggetti statement come finiamo la transazione? facendo la rollback, facendo la commit o semplicemente facendo senza semplicemente o facendo la commit a cui possiamo passare un array di statement da eseguire in questo caso ci ritorna i risultati quindi se abbiamo settato il semaforo all'inizio per fare delle robe che ci come una transazione c'è poco senso però l'abbiamo settato all'inizio e vogliamo desettarlo alla fine, non so, una roba così vogliamo aggiornare un timestamp dell'ultimo commit che c'è stato come in questo caso come accediamo ai risultati? ok quindi facciamo la run della nostra query la run ci ritorna un oggetto di tipo cipherlist su questo cipherlist possiamo ciclare possiamo chiamare il metodo map di cipherlist possiamo fare un po' di cose ogni oggetto di questa cipherlist è una ciphermap e ciphermap essenzialmente facendo la get riusciamo a prendere tutti gli alias che abbiamo in questa nel return statement quindi in questo caso possiamo prendere user e possiamo prendere id se prendiamo user che in questo caso è un nodo quindi un oggetto di tipo node ci ritorna appunto facciamo get user ci ritorna node e node possiamo accedere agli attributi get attribute e possiamo prendere id altrimenti se non è un oggetto di tipo node facciamo get e ci ritorna l'oggetto di qualsiasi tipo sia questo qua essenzialmente in questo caso un intero può essere una mappa può essere una data può essere qualsiasi cosa comunque get ci ritorna quel tipo di oggetto lì se non vogliamo usare il se non vogliamo gli oggetti di tipo node possiamo passare questo formatter quando creiamo il client e essenzialmente quando facciamo la get di uno di questi qua ci ritorna un array associativo non so se mi preferite o meno come dicevo prima il client ritorna vari tipi di dato oltre a quelli nativi ci sono tutti questi che vedete nella tabella e nonostante magari PHP il date time ce l'abbia comunque sono stati creati dei wrapper apposto per gestirli comunque dai wrapper poi si riesce a risalire a un bit time nel caso ci sia bisogno allora spero tutto abbastanza chiaro fin qua non so quanto ne sapevate di Neo4j però aspetto le vostre domande alla fine vediamo il dataset con cui andiamo a lavorare adesso quindi abbiamo delle bire che sono prodotte da birrifici che si trovano in una città che si trova in uno stato questa parte qua del dataset per oggi non si usa però diciamo c'è poi vediamo le label che saltano fuori quindi vi dico che c'è quello che andiamo a usare oggi sono gli utenti che scrivono recensioni a proposito delle bire adesso è anche un buon momento per introdurre quello che già abbiamo visto prima questa interfaccia che si chiama Neo4j Browser che altro non è che questa interfaccia web che sia out of the box con ogni installazione di Neo4j e ci permette di eseguire query e monitorare lo stato del nostro server Neo4j che è un classico database manager essenzialmente qui ad esempio vediamo che ritorniamo il nome della birra e lo stile della birra e ci fa vedere una vista tabellare ma possiamo anche nel caso che ritorniamo dei pattern o dei nodi e delle relazioni avere anche una vista grafica secondo ti pone su le tecniche di recommendation innanzitutto vediamo come si affronta il cosiddetto cold start problem cioè cosa raccomandiamo quando un utente non ha abbastanza storia oppure si è appena registrato una delle soluzioni nel nostro caso può essere quella di prendere quelle che la nostra community esistente considera come le quattro migliori birre nello specifico quello che andremo a fare sarà una query di questo tipo partendo dall'alto cerchiamo le birre che hanno almeno un rating maggiore di 3 che sono tutta la prima metà della query e che hanno una deviazione standard inferiore a 0,2 in modo che le recensioni su quella birra siano più o meno concordi sul voto finale poi ordiniamo e prendiamo le prime quattro ordinate sì, le prime quattro ordinate per il numero di recensioni, deviazione standard e media voto in questo modo quando un utente ci scrive la sua lista di consigli non sarà vuoto ma sarà le quattro migliori birre le quattro birre migliori che la community ha generato con questa query i due maggiori approcci e le raccomandazioni sono il collaborative recommendation e il content based recommendation oggi per questione di tempo e di complessità vedremo soltanto il collaborative recommendation perché è quello un po' più semplice la premessa qui è che due utenti è questa qua due utenti hanno avuto gli stessi gusti in passato quindi hanno dato un voto simile ad una stessa birra alle stesse birre a uno stesso set di birre quindi probabilmente avranno gusti simili anche in futuro questa è la premessa del collaborative recommendation ad esempio se io e Ale abbiamo comprato e valutato le stesse birre in passato non esattamente le stesse anche un subset se Alessandro settimana prossima vota una nuova birra che io non ho mai resa in sito ci sono buone chance che a me quella birra possa piacere quindi questo qua è il collaborative recommendation gli step per ottenere questo tipo di raccomandazioni sono due il primo è trovare gli utenti simili a me e il secondo è trovare le birre che questi utenti hanno recensito e io non ho recensito questo è il metodo più semplice in quanto non teniamo in considerazione né le preferenze dell'utente né le caratteristiche dell'oggetto che andiamo a raccomandare quindi soltanto a livello di comunità inoltre se ci sono pochi utenti o poche resensioni la qualità del risultato potrebbe non essere la migliore ovviamente e qui voi direte sì ma tu hai detto che il recommendation system devono tenere conto delle preferenze dell'utente del contesto sì come accennato questo qua è soltanto lo step più semplice della creazione di un sistema di raccomandazione questo è soltanto una parte di un sistema più complesso di raccomandazione tutti gli step successivi a questo sistema utilizzano argomenti un po' più complessi della teoria dei grafi e soprattutto le cose di cui tenere conto sono tante quindi l'obiettivo di oggi è soltanto presentare questo Neo4j PHP client costruire un semplice recommendation engine che funziona in maniera collaborativa e che usa suddetto client e Neo4j diciamo due step primo step se conoscete un po' di Cypher magari riuscite a seguirmi altrimenti spero di riuscire a spiegare il meglio possibile cosa succede qua allora prima riga troviamo tutte le birre tutte troviamo gli utenti con più di due recensioni la keyword width semplicemente dice passa queste due entità all'istruzione successiva serve perché fidatevi che serve è un po' complicato da spiegare perché serve però serve optional match ritorna il ritorno il risultato della match o null nel caso in cui non trovi nulla ed è opzionale quindi la query che quello vada a buon fine o meno va avanti comunque e quindi in questa optional match troviamo la recensione scritta da un utente su quella birra se esiste altrimenti torniamo dobbiamo prendere il valore del rating della recensione che abbiamo trovato nello step precedente che abbiamo trovato o non trovato quindi cosa facciamo facciamo uno switch case sulla recensione che abbiamo o non trovato precedentemente se non l'abbiamo trovata il valore del rating è zero se l'abbiamo trovata sarà quel che sarà cioè la proprietà rating del nodo review creiamo un oggetto proprio è un oggetto normale chiamato user data che contiene i rating che quell'utente ha dato alle birra creiamo un altro array con tutti gli user data di tutti gli utenti ok quindi in realtà quando arriviamo qua lui prima esigue tutta sta roba qua per tutti gli utenti poi con questa collect essenzialmente collect cosa dice tutto quello che c'è prima buttalo in una lista e questa lista la chiami data che può essere data che può essere pipo pluto è un alias semplicemente facciamo facciamo una chiamata a questa procedura che fa parte delle librerie di graph data science di Neo4j o GDS magari l'avete sentito nominare così che contengono tanti algoritmi della teoria dei grafi che sono già pronti per l'uso in questo caso dobbiamo calcolare l'indice di similarità tra due nodi e usiamo l'indice Pearson questo compara tutti gli utenti che gli passiamo le loro relative recensioni quindi tutto quello che c'è dentro a quella lista data li compara compara gli utenti e le loro recensioni e ci dà come risultato tra le altre cose che vi diamo nella yield sotto un indice che va da 0 a 1 dove 0 è un utente totalmente diverso dall'altro e 1 è un utente totalmente uguale quindi GDS alpha similarity Pearson stream bla bla passiamo a dei parametri che sono il nostro array che abbiamo detto prima top k che è il nostro qua per pregarvelo similarity cutoff essenzialmente vogliamo gli diciamo che vogliamo soltanto gli utenti che sono simili con un indice che è almeno di 0.3 quindi che sono abbastanza simili e yield come detto essenzialmente passa all'istruzione successiva i risultati della call che c'è sopra item 1 e item 2 o item 1 e item 2 per gli anglofoni sono due utenti sono i due utenti che quell'algoritmo ha comparato quindi usiamo questa funzione as node essenzialmente per trasformare il valore di item 1 e di item 2 in oggetti di tipo nodo che possiamo poi usare per reinserire nel database o possiamo usarli nelle istruzioni successive come se fossero veri nodi e non degli id e basta adesso mettiamo in relazione l'utente 1 con l'utente 2 tramite una relazione di tipo similar user e settiamo una proprietà su questa relazione con il valore dell'indice di similarità allora tutta sta pip qua cosa ci dà alla fine che forse è più semplice da capire ci dà una situazione di questo tipo quindi questi qua sono i nostri utenti adesso notare i nomi degli utenti sono un uomo di cultura quindi abbiamo gli utenti che sono collegati tra di loro e qui possiamo vedere ad esempio che loris è simile solo a Brian quindi l'utente più simile che c'è a Lois che ha Lois è Brian e quindi probabilmente quando Lois farà il login vedrà delle vir basate su le recensioni di Brian quindi nemmeno il tempo di prendere fiato dalla query di prima e passiamo a questa seconda query che stavolta è leggermente più semplice allora diciamo che U quindi U due punti user sono io inteso come l'utente a cui vogliamo raccomandare le birre ok quindi quando dico io intendiamo quella cosa lì troviamo gli utenti simili a me tramite la relazione che abbiamo creato nello stress precedente quindi non dobbiamo ricalcolare ogni volta che dobbiamo fare le che dobbiamo fare le raccomandazioni non dobbiamo ricalcolare gli utenti simili ma semplicemente noi ci li abbiamo già scritti li abbiamo già connessi nel nostro database dobbiamo soltanto farci la query sopra prendiamo tutte le birre di cui gli utenti simili a me hanno scritto una recensione ma che io non ho recensito quindi sono birre per me nuove ma che i miei utenti simili hanno provato avendo le birre che gli altri hanno recensito e io no a questo punto della query riprendo il mio no ad utente e creo una relazione recommended to che collega la birra al mio utente su questa relazione vado a settare la proprietà created at come timestamp e una proprietà reason che mi dice il perché è stata raccomandata il motivo e il motivo in questo caso è la user similarity quindi questa birra è stata raccomandata a me perché c'è un utente simile che l'ha che l'ha recensito in questa data fatto ciò finiamo con questa situazione qua che possiamo vedere come le nostre raccomandazioni siano spiegabili quindi siano explainable cioè possiamo ripercorrere il motivo per cui quella birra è stata raccomandata a stewee nella relazione viene specificata anche la data come abbiamo detto in cui è stata raccomandata e il motivo per cui è stata raccomandata se vogliamo se vogliamo ancora avere più informazioni possiamo anche aggiungere gli id degli utenti che hanno fatto raccomandare quella birra possiamo fare un sacco di cose e questa reason adesso nel nostro caso d'uso abbiamo soltanto questo tipo di raccomandazione ma pensate a un recommendation engine completo che ha vari livelli di recommendation che può essere la user similarity che possono essere altre cose basate sulle feature delle birre ad esempio una delle del content based recommendation potrebbe prevedere che noi abbiamo i valori dei profili di gusto di ogni birra quindi ogni birra può essere floreale acida n mila cose e col content based filtering possiamo andare a vedere quanto le birre che io ho valutato siano simili sempre usando quell'indice ad altre birre quindi mi può raccomandare altre birre e noi finiremmo sempre in una situazione del tipo stewee ha dei recommended to con altre birre però invece di avere come reason quindi qua invece di avere come reason user similarity potrebbe avere taste profile ok e quindi andiamo a sapere quella birra lì è stata raccomandata perché ha taste profile come come motivazione e poi essendo reason un array in realtà possiamo anche dire oh magari è stata raccomandata sia perché c'è la user similarity sia perché c'è il taste profile e in questo caso è una birra che andrebbe più in alto nella lista di raccomandazioni che andiamo a fare all'utente perché è stata raccomandata da due algoritmi diversi avanti qua comunque se facciamo una query per vedere chi ha recensito quelle tre birre che sono state raccomandate a stewee vediamo che gli utenti sono esattamente gli utenti che sono simili a stewee brian lois e peter brian lois e peter ok adesso però come lo mettiamo come mettiamo tutta la questione su il nostro framework sulla nostra applicazione allora come tornando alla prima slide io l'ho fatto con l'aravel però abbiamo detto il framework agnostic gli step sono semplicissimi quindi è portabile su qualsiasi framework che voi stiate lavorando allora vado vabbè vado a creare la mia DI con il client mi costruisco il mio client in modo che ce l'ho a disposizione ovunque abbiamo una recommendation repository che ha un metodo cold start recommendation e mi ritorna una collezione di recommendation questa query qua so che se non siete abituati a vedere cypher non ve la ricordate però è la prima che abbiamo visto quella del cold start problem quindi prendiamo le quattro migliori birre che la nostra community ha votato o le quattro birre che la nostra community reputa migliori andiamo a usare il client per fare la query e con i risultati andiamo a mapparli abbiamo questo node to recommendation semplicemente prende l'oggetto node e ci crea una entity di tipo recommendation e ritorna la collezione abbiamo un altro metodo sulla recommendation repository che è get recommended beers essenzialmente va a prendersi le birre che gli sono state raccomandate quindi le birre che hanno che sono connesse al mio utente con la relazione recommended to e poi ritrasforma crea la recommendation collection niente di che abbiamo il recommendation controller che si prende il conteggio delle delle recensioni che ha scritto l'utente se il conteggio è zero se il conteggio è maggiore di zero prova ad andare a prendere le le recommended beer se non ha recommended beer vuol dire che non ha ancora abbastanza dati per generare le raccomandazioni quindi non ha ancora utenti simili settati quindi andiamo a prendere sempre le cold start quindi il cold start è un po' un fallback e poi ritorniamo alla nostra vista o ritorniamo il json che vogliamo adesso tutti voi talebani mi direte ma non devi mettere la logica all'interno del controller sei cattivo cosa fai io so che voi siete più bravi quindi fate il business case che chiama il servizio che chiama la repository e tutto quanto però siccome non volevo farvi vedere 47 slide di codice con una riga ho preferito mettere tutto qua abbiamo un review controller e in questo review controller cosa succede? essenzialmente facciamo la put di una nuova di una nuova recensione e andiamo a dispacciare questo evento review added in cui passiamo l'utente il nostro listener cosa fa? quando viene dispacciato questo evento che può essere sincrono può essere messo in coda se poi comincia a diventare pesante a gestire tante cose tanti utenti va a chiamare questo metodo sulla sulla recommendation repository che si chiama update similar users e questo cosa fa? fa quelle due query stratosferiche che abbiamo visto prima quindi va ad aggiornare gli utenti simili al mio utente e va ad aggiornare le birre raccomandate al mio utente anzi ho sbagliato la prima in realtà aggiorni a tutti gli utenti simili perché il fatto che io abbia inserito una nuova recensione può anche far diventare un altro utente simile a me comunque questo è quindi so che magari avete emozioni contrastanti fino a questo momento magari vi sembra un po' figo magari vi sembra una fregatura magari non ci avete capito niente perché io Neo4j non lo conosco quindi non lo so se sapete un po' di Neo4j volete approfondire o se non sapete niente ma vi ho messo la pulce nell'orecchio a fine mese il 28 di ottobre la mia azienda organizza il Neo4j Milan User Group Meetup e il 28 appunto ci sarà un talk dove parleremo di Neo4j e spiegheremo le basi teoriche anche un po' pratiche per iniziare a giocare con questo potentissimo strumento e niente detto ciò domande di Neo4j 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 Grazie a tutti.